In silenzio sono rientrati nelle loro case, quelle stesse abitazioni da dove erano state sgombrati con tanto di ordinanza del sindaco Marco Zambuto. Dieci mesi dopo il crollo del nobiliere palazzo Loiacono Maraventano, l'area di Santa Maria dei Greci nel centro storico di Agrigento non è ancora sicura. Ai ritardi per la definitiva totale messa in sicurezza del quartiere, i residenti dell'antico Rione rispondono tornando in maniera arbitraria a vivere nelle loro case. A raccontarlo sono stati alcuni residenti di quel cadente triangolo, gente come Angelo Argento che è invece ancora fuori casa. E il chiaro segnale, dice Carmelo Terrasi, a capo del comitato per il centro storico, che quell'area è terra di nessuno, perché nessuno si è ancora accorto delle violazioni alle ordinanze sindacali. Quanto avviene fra Salita Itria, via Caico e via Santa Maria dei Greci, secondo quanto riferisce lo sgombrato Angelo Argento, è stato denunciato formalmente negli scorsi giorni alla procura. Stamani il sindaco Marco Zambuto ha predisposto attraverso il nucleo per la pubblica incolumità del centro storico della Polizia Municipale un controllo capillare di tutte le residenze che formalmente risultano ancora sgombrate.